Una volta completato l'input del modello in termini di elementi finiti e elementi solaio, procediamo per andare a definire quelle che sono le opzioni generali del nostro progetto. Iniziamo andando a definire una proprietà molto importante che sono appunto gli impalcati. Gli impalcati sono degli elementi che raggruppano le entità posizionate alla stessa quota altimetrica. Nel caso della presenza di struttura, gli impalcati da definire saranno tre, ovvero quello relativo alle fondazioni a quota 0, quello relativo a quota 300 del primo piano e quello in copertura a 6 metri. Spuntando l'opzione da inserisci tolleranze automatiche, possiamo includere all'interno del gruppo di ciascuno dei nostri impalcati e eventuali nodi che si trovano a metà strada tra una quota e l'altra. Gli impalcati in CMP hanno diverse funzioni, tre in particolare. Possono consentire di assegnare link di piano rigido. Nel tutorial precedente abbiamo visto come assegnare il piano rigido al solaio di copertura, quindi questo solaio già ce l'ha. Invece il solaio del primo piano ancora non ha questo vincolo e lo diamo attraverso questo comando. Poi consentono di applicare l'eccentricità delle masse per l'analisi sismica, come previsto dalle normative. Infine permettono di calcolare il fattore teta, così come è appunto richiesto dalla normativa, per evitare che la struttura sia eccessivamente snella e che quindi non possa essere affrontato lo studio in un campo elastico lineare. Quindi la definizione degli impalcati è un'operazione importante da fare prima di lanciare l'analisi. Confermo i dati premendo applica, quindi chiudo il comando. Le altre ipotesi di progettazione invece vengono imputate utilizzando il comando opzioni di progetto, che posso avviare attraverso la corrispondente icona. Nella prima finestra posso inserire quelli che sono i dati descrittivi del modello, quindi eventualmente il nome, note sulle modifiche magari che sono occorse, committente, località, altitudine, ad esempio 60 metri sul livello del mare, longitudine 10,2 e latitudine 44,12. Posso inoltre specificare se il mio modello si trova in zona sismica e attivando quest'opzione si vengono ad sbloccare altri comandi la cui funzione vedremo appunto in seguito. Qui intanto dobbiamo terminare l'input scegliendo la classe d'uso, in questo caso 2, e la classe d'utilità, che per me sarà la media. Confermo i dati premendo applica e quindi passo alla finestra successiva, che è quella che consente la gestione delle condizioni di carico elementari e fasi. In questo modello sono già presenti 8 condizioni di carico elementari, peso proprio, sovraccarico permanente, esercizio, neve e 4 condizioni relative al vento. Il comando che si trova nella parte inferiore consente di associare alle varie tipologie di carico assegnate ai solai la corrispondente condizione di carico. Normalmente di default il peso proprio andrà nella prima condizione di carico, il sovraccarico permanente nella seconda e il sovraccarico variabile nella terza, in questo caso. Qualora queste impostazioni che valgono in generale per tutti i solai non andassero bene nel caso di alcuni solai specifici, lo stesso comando si può trovare anche nel menu entità solaio e può essere assegnato ai solai che hanno bisogno di un'attribuzione particolare. Anche in questo caso premiamo il comando, il comando che vi dicevo è appunto questo, condizioni di carico da solaio e va appunto assegnato, va attivato e quindi assegnato ai solai con assegnazioni particolari. Torniamo su opzioni generali per completare l'input, apriamo la finestra relativa ai parametri generali delle azioni del vento. Qui vengono definite quelli che sono i carichi del vento, quindi si sceglie la zona, periodo di ritorno, categoria di esposizione, coefficienti di topografia, coefficienti dinamico. se attivare o meno il calcolo delle azioni del vento da circolare 2019 e in questa parte si vanno a definire quelle che sono le condizioni del vento. Quindi sarà la condizione vento x più, y meno, y più e y meno. Questa parte va completata inserendo l'angolo che la direzione del vento relativa alla condizione di carico forma con l'asse globale x. Quindi in questo caso sarà 0, poi avremo 180, 90 e meno 90. Per quanto riguarda i parametri relativi alla base e alle quote ZE possono essere definite, possono essere richiamate in automatico spuntando questi due parametri. Facendo applica, la dimensione del fabbricato in direzione ortogonale nella direzione del vento viene aggiornata in automatico. I dati del vento non sono compiutamente definiti rimane da assegnare i singoli elementi su cui agisce il vento il coefficiente di pressione. Per farlo, prendiamo ad esempio questo maschio murario andiamo in entità BIM parametri del vento e accendiamo il comando. Qui sono presenti i coefficienti di pressione da assegnare per le due direzioni locali 2 e 3. In questo caso vediamo che l'asse ortogonale alla muratura è l'asse 2, l'asse locale 2, quindi i coefficienti di pressione andranno inseriti in questa parte. In particolare, nel caso di un vento che agisce in direzione parallelo a x dovremo applicare un coefficiente di depressione pari a 0,4. Stessa cosa per un vento che agisce in direzione meno x. Per il vento che agisce in direzione x più andiamo ad applicare un coefficiente di pressione meno 0,8 e andiamo ad indicare che la parete è di sopravvento. Infine, per un vento in direzione y meno andiamo ad immettere un coefficiente di pressione 0,4. Completiamo andando ad assegnare. Ora possiamo visualizzare le pressioni del vento andando su visualizza carichi e scegliendo carico da solaio anzi, scusate, prima occorre fare un giorno a carichi da solaio vento masse quindi a questo punto si attiva la spunta su vento normale e quindi possiamo visualizzare le pressioni del vento che abbiamo appena inserito. Questa sarà l'azione del vento nella condizione di carico 7 queste invece sono le azioni del vento nelle altre condizioni di carico. Chiarito questo aspetto torniamo in opzioni generali del progetto e continuiamo a vedere l'inserimento dei dati. La finestra delle condizioni di carico non lineare e buckling in questo caso nel caso delle strutture in muratura non è necessaria. Passiamo invece ai parametri generali per l'azione sismica. In questa finestra dobbiamo definire la classe del terreno il fattore di struttura scegliendo costruzione in muratura e costruzione in muratura ordinaria edifici non regolari in altezza e regolari in pianta. Il fattore di struttura può essere diverso in direzione X e in direzione Y nel nostro caso lo prendiamo uguale. Scegliamo inoltre di fare un'analisi dinamica e per ora inseriamo un numero di autovalori pari a 20. Fatto questo se diamo applica compare questo messaggio che dice che nel modello non sono ancora state definite le condizioni di carico elementari e sismiche. Andiamo quindi sull'apposito sul comando successivo e generiamole con il comando automatico. Vengono definite condizioni di carico per lo stato limite di danno e lo stato limite di salvaguardia della vita. Questo perché la nostra struttura è in classe 2 quindi queste sono sufficienti. Come vedete ho eliminato l'azione sismica in direzione verticale perché per la presente struttura non è strettamente necessario. Di nuovo posso confermare i dati schiacciando applica. In questa finestra vediamo in che con quali coefficienti le varie condizioni di carico partecipano alla definizione delle masse sismiche e infine questo è il parametro relativo all'analisi di pushover che vedremo in seguito. Per attivare l'analisi di pushover occorre da parametri generale azione sismica andare a selezionare la corrispondente opzione. La prima analisi però che andiamo ad affrontare è un'analisi di tipo elastica lineare per cui per ora lasciamo disattivata quest'opzione. La definizione delle opzioni di calcolo può considerarsi terminata. Prima di lanciare l'analisi effettuiamo semplicemente due operazioni che ancora mancano. La prima consiste nell'assegnazione dei vincoli fissi alla base e andiamo a mettere per ora dei vincoli di tipo incastro e la seconda consiste nel andare a svincolare a momento flettente fuori dai piano una delle due estremità dei maschi murari. Quindi da tipologie scegliamo pilastri in muratura richiamiamo questa selezione e da entità BIM svincolamenti andiamo a assegnare uno svincolamento al momento M1-2 ad esempio al primo estremo. questo fa sì che lo schema di calcolo delle azioni fuori dal piano sia simile allo schema previsto lo schema dell'articolazione previsto dalle norme normative tecniche del 2018 fatta questa operazione è possibile procedere al calcolo del modello dal comando strumenti calcola di calcolo